Un saluto a tutte e a tutti, a tutti gli appassionati di scienza che rimangono quest'anno senza la rassegna ultima frontiera, scienza ultima frontiera o meglio la aspettano perché i nostri ospiti ci hanno garantito che verranno a Brugherio non appena sarà possibile incontrarsi di persona, che è la cosa che a noi piace, far venire i grandi scienziati in mezzo alla gente, farli parlare, farli conoscere e questo è un po' lo scopo della nostra iniziativa. Siamo con il terzo ospite della rassegna Alfio Quarteroni che saluto e ringrazio anzitutto, grazie di essere qui. E anche questa ulteriore disponibilità che dai ai brugheresi appassionati di scienza. Finora abbiamo incontrato due medici, Michele De Luca, Giuseppe Remuzzi e per una rassegna il corpo che siamo, la salute che cerchiamo, due medici ci stanno. Ma tu sei un matematico, sei un grande matematico e per cui la domanda viene spontanea. Cosa c'entra un matematico con il corpo? Cos'è? Adesso abbiamo immaginato che il corpo sia una macchina, la studiamo con le equazioni. Puoi raccontarci qual è il tuo tipo di lavoro e che cosa c'entra con il corpo e la salute? Sì, intanto grazie per l'invito che ovviamente ho accettato con grandissimo piacere e un grande onore. Beh, diciamo che da sempre la matematica cerca di descrivere non solo la natura, come diceva Galileo, ma anche i processi in generale che succedono intorno a noi. Sicuramente i processi naturali, che so, le inondazioni, le previsioni meteo, i grandi eventi come gli eventi sismici, eccetera. Ma anche i processi che hanno più a che vedere con la nostra vita ogni giorno, i processi nell'industria, come ottimizzare i processi produttivi, come fare un'automobile, disegnare un'automobile che abbia delle performance aerodinamiche migliori. Come cercare di anche regolare in qualche maniera l'acquisto e la vendita di prodotti finanziari attraverso algoritmi che cercano di stimare il rischio di certe operazioni e poi potrei citarne tantissimi altri. Più recentemente, sto parlando dagli ultimi 20-30 anni, la matematica si è anche avvicinata, diciamo, alle scienze umane o alle scienze biologiche, quelle che oggi si chiamerebbero le life sciences, con tanti obiettivi. Forse il primo è stato proprio quello di cercare di descrivere i processi epidemiologici, magari ne parleremo dopo, questo fa parte della qualità. Il primo modello epidemiologico è in realtà di 100 anni fa, addirittura. Però, diciamo, era confinato a dei modelli che erano qualitativi, interpretativi, ma che davano poco informazione quantitativa. Ma più recentemente, direi 25 anni fa, 30 anni fa, la matematica ha cercato di entrare nel, diciamo, anche nel regno della medicina. Cioè cercare di aiutare i medici ad avere una comprensione più quantitativa, vorrei quasi dire più scientifica, di quello che succede al nostro corpo, di quello che succede agli organi importanti o ai sistemi importanti del nostro corpo, il sistema nervoso, il sistema biomeccanico, il sistema cardiocircolatorio, il cervello, più ultimamente il cervello. Ecco, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di, se vuoi, da un lato, vorrei quasi dire, ridescrivere gli atlanti, fare degli atlanti diversi, quindi aiutare per una migliore comprensione della fisiologia umana, da un lato, attraverso la matematica, dall'altro, se possibile, aiutare poi i medici a operare meglio, operare meglio in un certo senato, cioè diagnosticare meglio, curare meglio, quindi il processo terapeutico, e anche operare meglio dal punto di vista chirurgico, in certi ambiti, disegnare a priori dalle operazioni chirurgiche, per esempio devo fare un bypass a un paziente che magari ne ha già subito uno, quindi ho tante possibili opzioni, ma tutte, diciamo, di carattere dal punto di vista idraulico complesse, e posso fare uno studio preliminare con la matematica per capire se un'operazione, un protocollo, per quello specifico paziente è più opportuno di altri protocolli. Oppure, devo fare una sostituzione di una valvola cardiaca, oppure ancora, magari poi vi faccio vedere qualche immagine, se è possibile. Ah, sarebbe bellissimo, sì. Anche perché... Ad esempio, adesso vi anticipo, magari vi faccio vedere qualche immagine, mostrare come, per pazienti che hanno problemi di ritmo cardiaco, come tachicardie o fibrillazione, come intervenire, come intervenire in maniera, se possibile, ottimale. Ecco, sembra un grande sogno in realtà, ma sta un po' concretizzandosi. E l'obiettivo è di arrivare a scrivere equazioni che descrivano il comportamento degli organi, del corpo umano. Quindi non realizzare organi artificiali, ma realizzare un cuore matematico, un'arteria matematica, una coronaria matematica, con equazioni che poi, una volta risolti, siano in grado di vedere con occhi reali cosa sta succedendo a quella coronaria o a quel ventricolo. Questo è un po' l'obiettivo generale. Ecco, rassicuro chi ci vede, ci ascolta, che tu sei uno scienziato e non uno scrittore di fantascienza, perché le cose che ci descrivi sono alle frontiere più estreme della conoscenza, in particolare del cuore, che mi sembra sia un po' l'oggetto principe dei tuoi lavori. Se avessi qualche immagine... Sì, volentieri. Adesso cerco di recuperarle e, diciamo, di cuore abbiamo cominciato a occuparci, diciamo, ormai sono quasi dieci anni. Non è la sola cosa che facciamo, ma è forse la cosa più importante che sto facendo in questo momento. e l'obiettivo è proprio quello di realizzare un cuore matematico con equazioni. Adesso vedo se riesco a recuperare delle immagini che possano magari far capire meglio di cosa sto parlando. Allora, supponiamo di aver spiegare a uno studente di medicina all'inizio, proprio, diciamo, completamente ignaro di quello che sta succedendo, come funziona il cuore. Ora, ovviamente adesso banalizzo un po', ma è giusto per questioni di tempo. Che cosa diremmo? Diremmo che il cuore è una grande pompa che ha due atri e due ventricoli, che il sangue venoso entra, ricco dalle sue sostanze tossiche, nel cuore destro, quindi all'atrio destro, attraverso la vena cava superiore e inferiore, poi passa attraverso una valvola che è la valvola tricuspide nel ventricolo destro, poi attraverso l'arteria polmonare va ai polmoni. Qui c'è delle sostanze tossiche, CO2 per esempio, riceve ossigeno, stiamo parlando di un cuore che funziona normalmente, il cuore è sano, diciamo, riceve ossigeno, lo riporta al cuore, al cuore sinistro, attraverso queste quattro vene che sono le vene polmonari, queste vene violette, diciamo, entra nel latino sinistro e poi attraverso questa valvola, si chiama valvola mitrale, quando si apre, entra in questa parte, che è la parte fuori più importante del cuore, il ventricolo sinistro e questo prima si gonfia, si riempie di sangue, questa è la fase diastorica, si sta rilassando, poi quando questa, diciamo, sangue ha una pressione sufficientemente grande da vincere la resistenza della valvola aortica, allora viene spinto nella valvola aorta e da lì raggiunge, diciamo, i milioni di miliardi delle nostre cellule. Questa è l'idea meccanica, ma perché il cuore si rilassa e perché batte, perché si comprime, perché si rilassa, perché c'è una scintilla elettrica che viene, diciamo, che parte spontaneamente dal nodo seno-atriale e da lì genera un campo elettrico che si propaga nell'intero miocardio, lo sto facendo molto rapido, il mioocardio raggiunge tutti i singoli cardiomiofilamenti, questi per un complessissimo meccanismo di trasferimento di energia da elettrica a meccanica, diciamo, si allungano, si accorciano, questo crea un treno di onde che fa sì che alla fine della storia il nostro cuore si rilassi e si contrae. Se si rilassa e si contrae, in particolare il sangue che era chiuso nel cuore, che sta transitando nel cuore, viene o immesso nel cuore nella fase di rilassamento, siamo risucchiato dai polmoni, oppure eiettato, spinto nell'arteria aorta. Quindi ci sono tanti meccanismi, c'è un meccanismo elettrico che è la base di tutto, se non ci fosse il campo elettrico, beh, noi non vivremmo. Poi c'è il meccanismo, diciamo, meccanico in senso stretto, quello deformativo, la rilassamento, la contrazione. Poi c'è il meccanismo fluido-dinamico, il sangue è un fluido che è dentro e che va soggetto le leggi fisiche dei fluidi e poi ci sono le valverie che si chiudono, eccetera, eccetera. Insomma, la fisiologia umana si può descrivere attraverso i principi della fisica e questi principi della fisica danno poi origine ad equazioni matematiche e se noi fossimo in grado di risolvere le equazioni matematiche saremmo in grado di riprodurre il funzionamento del cuore, non fisicamente ma in un computer con numeri, con grandezze e quindi è come se vedessimo il cuore funzionare solo che lo vediamo in un computer. Ora, vi nascondo tutta questa complessità matematica che è assolutamente spaventosa anche per studenti diciamo degli ultimi anni dell'università ma vi voglio però far vedere che cosa si trova. Per esempio, guardate, questa è un'immagine di un cuore di un paziente e quello che vedete spero che si vede un'onda che si propaga questo è il campo elettrico il campo elettrico calcolato con la matematica quindi stiamo vedendo lo stimolo elettrico in alto nel cuore destro nel nodo seno atriale che si propaga da luogo ad un campo elettrico vedete dei colori cosa vogliono dire questi colori allora, se è blu vuol dire che il segnale elettrico non è ancora arrivato se invece i colori sono caldi diciamo dal giallino al rosso allora il campo elettrico è arrivato e l'intensità del colore misura l'intensità del campo elettrico quindi il colore è associato a un codice numerico che in ogni punto del cuore mi dice qual è il potenziale elettrico in quello specifico punto stiamo vedendo una sorta di elettrocardiogramma ma molto più picco che ci fa capire cosa sta succedendo dentro il nostro cuore dentro il cardiogramma ci fa capire cosa sta succedendo sul nostro petto dove mettono naturalmente il led dove mettono i dove si rileva il potenziale elettrico no? gli elettroni diciamo qui vedete tutto nella terza dimensione cosa sta succedendo allora dicevo prima è una sorta di atlante virtuale però numerico con dei valori numerici e uno può fermarsi a questo livello quindi diciamo lo potete vedere a questo livello come uno strumento educativo per medici una lente aperta dentro il nostro cuore per far capire cosa succede ma potete andare molto al di là potete per esempio adesso simulare un cuore che non funziona perché ha un attacchi cardia quindi avete il campo elettrico che non è più un fronte che avanza ma un fronte che si spezia in tanti altri fronti ci sono delle onde elettriche che danno luogo a comportamenti vorrei dire quasi caotici sì e lo vedete in alto e lo vedete ancora di più in basso dove queste onde elettriche dove questo fronte di propagazione si spezia in tanti altri fronti e poi si sfrage diventa una melassa diventa una qualcosa di quasi completamente caotico allora qui stiamo simulando una fibrillazione nell'atrio e che succede in un caso di questo tipo un paziente che abbia una persona che abbia un problema di questo tipo beh una persona il cui cuore non è più in grado di battere armoniosamente quindi di battere ritmicamente quindi contrarsi e dilatarsi contrarsi e dilatarsi col ritmo giusto e quindi in particolare è un cuore che batte all'impazzata e non è in grado di espellere la giusta quantità di sangue quella che va ad alimentare il nostro corpo e cosa fanno i medici gli aritmorgi in questo caso entrano con delle sonde dei catetri e cercano di andare a letteralmente bruciare tessuto in punti che sono responsabili per la creazione di queste onde anomale ed è un approccio molto empirico ovviamente guidato dalla loro saggezza dalla loro intelligenza dalla loro conoscenza dalla loro arte ma non c'è una teoria consolidata sotto per dirti brucia in questi punti e non in questi altri punti e quindi l'operazione può durare tanto tempo tante ore ovviamente il paziente è soggetto a questo tipo di operazione e l'efficacia dipende dalla bravura del medico e dal caso specifico ecco noi vorremmo aiutarli ad operare meglio è uno scopo e non siamo lontanissimi da questo tipo di realizzazione di questo tipo di obiettivo è un esempio dei tanti che si può sentire beh guarda è assolutamente affascinante io penso che quando verrai da noi verremo tutti ad ascoltarti perché siamo veramente alle frontiere più avanzate cose neanche immaginabili insomma volevo solo chiederti quando dici noi c'è un gruppo di ricerca dietro a questo progetto vuoi dirci brevemente chi siete chi è questo noi giustissima osservazione sì allora sì dunque intanto questa come potete immaginare non è one man show non è la realizzazione di una singola persona singola persona serve perché specialmente se ha più esperienze più capelli bianchi è la persona che ha come dire forse un pochino si spera un pochino più di visione quindi deve naturalmente capire mostrare la direzione di marcia capire dove andare capire qual è l'obiettivo primario da perseguire e poi è un problema di coordinamento di persone c'è un gruppo di tante persone che in questo momento è Politecnica di Milano Dipartimento di Matematica io coordino diciamo circa 30 persone che lavorano su questo progetto e sto parlando di persone di varia seniority quindi sto parlando di professori più giovani di me però professori già e poi dottorandi postdoc e anche qualche volta qualche brillantissimo studente di laurea come potete immaginare il cuore umano è un organo iper complesso e c'è bisogno di un disegno generale ma poi ci sono tanti pezzi che devono andare al loro posto per esempio qui vedete la parte se riesco a farvi vedere la parte contrattiva questa è la parte meccanica prima ho visto la parte elettrica non so se si vede il ventricolo questo è il ventricolo sinistro che sta diciamo contraendosi il ventricolo di una persona che ha un problema e quindi stiamo capendo com'è la sua diciamo la contrazione dal suo ventricolo oppure qui vediamo l'intero cuore sinistro che sta contraendosi e dilatandosi quindi queste sono le fasi sistoliche e diastoliche vedete quello che vedete sotto questa sorta di salsicciotto in realtà è la parte il volume del ventricolo sinistro interno quello occupato dal sangue e qui lo vedete nella sua fase contrattiva che si chiama sistolica e dilatativa che si chiama diastolica e poi vedete per esempio in questo caso il sangue che entra dentro nel cuore sinistro dall'alto e poi dall'alto arriva dal sangue ossigenato che arriva dai polmoni e poi entra attraverso la valvola mitrale nel ventricolo sinistro e poi attraverso la valvola ordica viene espulso questa è la fluidodinamica ecco lo faccio vedere per dire che sono tante componenti come dicevo all'inizio quella elettrica quella meccanica quella fluida quella delle valvole eccetera eccetera quindi sono tanti gruppi che stanno occupando di tutti questi pezzi del puzzle ma sapendo tuttavia che tutto dipende da tutto è un processo come si dice in matematica in fisica non lineare completamente accoppiato e se vuoi anche questo è un paradigma nuovo non ormai siamo abituati quando andiamo in un ospedale ad andare in una specifica divisione andiamo in chirurgia andiamo in ortopedia andiamo nel caso del cuore andiamo dai chirurghi vascolari andiamo dagli aritmologi andiamo da quelli che ci fanno il bypass eccetera sono tanti gruppi diversi che lavorano su alcune componenti del funzionamento cardiaco ma in realtà tutto dipende da tutto e quindi quando faccio un intervento da una parte vado a condizionare quello che succede anche negli altri ambiti per certi aspetti se c'è un cuore che ha un problema di ritmo cardiaco come la tachicardia o la fibrillazione di prima negli atri questo è un problema elettrico di fatto questo poi genera un disturbo nel flusso di sangue quindi nell'emodinamica che poi può portare alla stagnazione e quindi anche la creazione dei coaguli che possono essere pericolosissimi perché se poi si vengono diciamo se partono possono andare poi a raggiungere la parte diciamo delle arterie cerebrali e quindi portare delle occlusioni eccetera eccetera noi cerchiamo di sviluppare una visione d'insieme in cui tutto è visto sotto la stessa luce e tutto condiziona tutto questo è penso anche un modo per portare un nuovo tipo di cultura in un ambito medico che per forza di cose inevitabilmente è molto specializzato sì 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 assolutamente affascinante vedere questo sugli assi cartesiani questa è una simulazione in base è una simulazione tridimensionale sono 5 secondi se guardi in basso spero che si vede il time sì sì questo è il tempo fisico va fino a 5 secondi stiamo simulando 5 battiti cardiaci di vita vera simulato computer quindi risolvendo quelle equazioni matematiche di prima ovviamente non ti sto a dire quanto compresso sia questo no 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 lo immaginiamo tutti anche dal punto di vista della realizzazione cioè tieni conto che per simulare un battito cardiaco che è un secondo di vita reale può servire una settimana su un grande super computer questo per dirti un grande super computer che è in grado di effettuare milioni di miliardi di operazioni al secondo operazioni vuol dire moltiplicazione la divisione la somma e la sottrazione milioni di miliardi al secondo ecco stai facendo lavorare un computer di questo tipo per una settimana per simulare un singolo battito cardiaco e uno dice ma come è possibile e la ragione è che il nostro cuore è una macchina è ovviamente una macchina meravigliosa una macchina raffinatissima e per catturarne il funzionamento a livello microscopico hai assolutamente bisogno di mettere in campo una matematica potentissima la quale poi richiede la risoluzione di grandi sistemi di equazione di centinaia di milioni di equazioni o di variabili o di incognite e quindi questi a loro volta hanno bisogno di grandi super computer quindi è tutta una catena che va dalla comprensione fine a livello fisico medico alla traduzione matematica alla realizzazione di algoritmi all'uso di super computer e poi quello che vedi sullo schermo è il passo finale cioè di miglia ce ne sono tantissime altre meraviglioso poi a pensare che succede a due passi da noi insomma uno studio di avanguardia di eccellenza bellissimo guarda siamo tutti già prenotati lì in sala ad aspettare che arrivi ci fai vedere tutta la storia ecco ti solliciterei come matematico e come grande scienziato in tempi in cui in questa pandemia mondiale noi siamo in qualche modo inondati di dati dal famoso bollettino delle 18 dal numero dei tamponi dei positivi del però l'effetto che riscontro personalmente con le tante persone cittadini comuni come bibliotecari abbiamo l'occasione di incontrare tranne adesso che purtroppo siamo chiusi generano molta confusione in alcuni anche molta apprezzione se non proprio una paura molto forte allora puoi portarci un po' di chiarezza cercare di capire qual è il vero ruolo dei dati negli studi per affrontare questa epidemia e invece capire che tipo di dati un cittadino può guardare consultare per informarsi e non essere terrorizzato da questa specie di stilicidio quotidiano insomma è una domanda impegnativa nel senso che va ovviamente a toccare anche le corde della nostra reazione psicologica davanti a un dramma che non riusciamo assolutamente a dominare io penso effettivamente che mai come oggi mai come in questa in questi ultimi otto mesi mesi ormai abbiamo capito quanto per descrivere fenomeni molto complessi purtroppo la matematica è fondamentale dico purtroppo perché diciamo ovviamente io faccio questo mestiere per cui per me va benissimo ma per l'uomo comune uno ne farebbe anche volentieri a meno cioè vorrebbe poter avere uno sguardo più come dire più più rilassato e più distancato ora i dati sono fondamentali i dati sono fondamentali perché stiamo abbiamo a che fare con un fenomeno molto complesso e ancora pochissimo capito e il dato è un modo per ancorarlo a una conoscenza minima voglio fare un esempio niente che vedere col covid sperando di aiutare allora se andiamo indietro a di cento anni pensiamo a come il tempo meteorologico giocasse un ruolo nella vita di tutti diciamo dei contadini per capirci perché loro più di ogni altro non si faceva molto turismo cento anni fa quindi i contadini invece aveva bisogno di sapere se seminare o o mietere eccetera eccetera quindi aveva una dipendenza assoluta dalla dalla meteorologia e come faceva a cercare di non essere completamente in balia dell'evoluzione beh guardava il cielo e faceva riferimento alla sua memoria storica probabilmente o ai tacquini dei vari frati che ti dicevano che in certi periodi in certi giorni se piove quel giorno poi magari non piove per una settimana oppure se piove sulle palme poi piove domenica delle palme poi piove a Pasqua e robe di questo tipo cioè si faceva riferimento a quella che era quella che non si chiamava così una storia ma una statistica passata pregressa che era nella memoria storica delle persone ora siamo tutti d'accordo che la conoscenza che si può estrarre da questo tipo di indagine è limitatissima perché ai noi la fisica dell'atmosfera è infinitamente più complessa della possibilità di una descrizione basata su un minimo di memoria storica e anche davanti a tante situazioni del cielo apparentemente simili poi l'evoluzione può essere completamente diversa oggi siamo su un terreno molto più solido perché abbiamo i modelli meteorologici i quali si basano su equazioni matematiche le quali si basano su leggi della fisica che interpretano l'evoluzione della fisica dell'atmosfera se non avessimo fatto nei secoli anzi non nei secoli in questi ultimi 60 anni direi questi progressi giganteschi oggi non sarebbero in grado di usare le curve le isoline le mappe di pressione che vediamo in televisione che vediamo nei media che sono rappresentazione plastica di una situazione numerica di dati allora quello ci permette di sviluppare una nostra conoscenza anche se io non sono un meteorologo e sono un contadino o sono semplicemente una persona che vuole andare al mare domenica o vuole andare a sciare a Natale ora non si può ma insomma se fosse possibile torniamo indietro di qualche anno ecco vorrei sapere se ci sarà neve sufficienza oppure se ci sarà sole la settimana dell'ultima settimana di luglio eccetera eccetera beh guardo quelle informazioni lì ed estraggo la mia conoscenza dalla conoscenza sviluppata dagli altri ecco noi siamo in questa fase ancora primordiale noi vorremmo poter estrarre conoscenza da quelle curve da quei dati che ci vengono propinati tutti i giorni e di fatto siamo sommersi cioè non abbiamo lente di interpretazione non abbiamo una guida se vuoi perché non l'abbiamo perché perché siamo all'inizio di questo processo e il processo è molto complesso da un lato quindi ha ancora tanti punti oscuri come aveva il cuore 30 anni fa quello che vi ho fatto vedere 30 anni fa non sarebbe stato possibile c'è stata conoscenza sviluppata in questi ultimi 30 anni da un lato dall'altro e qui voglio dire piccola riflessione personale il modo in cui questi dati ci vengono comunicati è lungi dall'essere quello ottimale quindi c'è un problema di comunicazione c'è un problema di scelta dei dati da comunicare c'è un problema di comunicazione e questo è quello che ci disorienta perché non c'è nulla di più disarmante di comunicazioni incoerenti fatte da persone che dovrebbero invece avere l'autorità di portarci la verità o la conoscenza allora sovrappiamo sotto il dibattito tra scienziati contro no? o schieramenti di scienziati eccetera eccetera non parliamo di questo io cerco di andare spero di poter diciamo vorrei poter andare al punto della questione abbiamo tanti dati tantissimi dati paradossalmente non sono sufficienti per una comprensione pur essendo tantissimi quindi già ci disorientano non sono sufficienti per farci capire la vera evoluzione faccio degli esempi no? che cosa cosa sappiamo ogni giorno sappiamo cosa ci viene detto ogni giorno ci vengono comunicati i dati dei delle terapie intensive dei morti degli ospedalizzati dei contagiati ora questa è un'informazione importante ma non è tutta l'informazione che serve che servirebbe per avere un quadro più come dire veritiero possibile del processo per esempio quando mi si dice che le terapie intensive sono uscite 100 persone faccio un esempio oggi sono uscite 100 persone io vorrei sapere se le 100 persone sono uscite quante di queste sono uscite perché purtroppo diciamo non ce l'hanno fatta o quante invece sono state poi ospedalizzate o sono state mandate a casa e poi sono nella fase di recupero questo è fondamentale per capire il processo quando vedo i contagiati oggi diciamo ci sono 25.000 nuovi 20.000 nuovi contagiati fatto 200.000 tamponi 20.000 nuovi contagiati sto usando i numeri interi così si capisce quindi un decimo delle persone a cui si hanno fatto il tampone sono risultati positivi vorrei capire per esempio quante di queste sono al primo tampone quindi si è scoperto che sono positivi appunto per quante di queste si sta facendo una verifica e quindi magari il secondo terzo quarto tampone eccetera eccetera perché ci descrivono storie diverse vorrei capire quanti sono giovani quanti sono vecchi vorrei capire qual è la stratificazione per età vorrei capire qual è la stratificazione per genere vorrei capire quando vorrei capire quante persone nella scuola sono state realmente contagiate come faccio sapere se devo aprire o non devo aprire vorrei sapere quante sono state contagiate realmente nella scuola e poi se possibile quante di queste persone contagiate nella scuola hanno portato poi il contagio in famiglia allora il dato nazionale ci racconta una realtà molto mediata io vorrei sapere che succede a livello provinciale per esempio stiamo scoprendo che con questa seconda ondata che le province più risparmiate dalla prima sono state le più colpite della seconda questo è fondamentale se io devo capire qual è la vi ricordate la propagazione del fronte elettrico di prima nel cuore io voglio capire quella propagazione del fronte di contagio questo mi aiuta a capire l'epidemia allora queste informazioni geografiche sono fondamentali insomma mi fermo perché diventerebbe lunghissima la storia ma nonostante siamo invasi dei dati paradossalmente non abbiamo dati a sufficienza per sviluppare un modello di contagio pur non essendo sufficienti questi dati sono fin troppi per come sono comunicati adesso sto parlando di comunicazione non dell'uso scientifico sono fin troppi perché a me piacerebbe capire ogni giorno se effettivamente il numero di contagiati percentualmente parlando rispetto ai tamponi sta crescendo e poi mi interesserebbe capire se questi tamponi che vengono fatti sono statisticamente significativi se mi stando rappresentando un campione della popolazione sufficientemente rappresentativo perché nella prima ondata i tamponi si facevano sostanzialmente solo quelli che avevano dei sintomi manifesti poi è emersa e quindi era evidente che là la percentuale di contagiati da molto altri poi è venuta fuori la storia scusate non la storia ma diciamo la teoria degli asintomatici e ora nelle more delle difficoltà che la sanità territoriale sta incontrando non siamo più in grado di seguire nemmeno quelli che hanno sintomi si dice di stare a casa perché non possiamo fare tamponi a tutti eccetera in altri termini la storia che quel numeretto mi racconta nelle diverse fasi è completamente diversa e senza un'informazione dietro che mi porta a capire chi sono le persone che io ho testato io faccio fatica a stare conoscenza da lì non si arriva a questo in modo impreparati per arrivare e a comunicare intanto a rilevare i dati correttamente poi a comunicarli correttamente insomma c'è bisogno di fare esperienza e pensarci e appunto farsi tornare preparati ecco credo che siamo anche a questo ma invece riesci a farci capire anche in maniera semplice possibilmente come invece viene studiato dagli specialisti dal punto di vista matematico questa epidemia cioè che cosa si fa cosa si studia come funziona la ricerca in questo campo prima vorrei far vedere questa mappa concettuale che fa capire il ruolo dei dati come si collocano i dati i dati non sono l'intera storia attenzione i dati sono l'inizio della storia della comprensione allora il modello matematico per esempio il modello del cuore sta qui in mezzo con le equazioni che avete visto prima eccetera il modello sta qui in mezzo perché il modello è generale non descrive il mio cuore o il tuo cuore o il cuore di Mario Rossi o di Giovanni Bianchi descrive il cuore umano in generale quelle equazioni sono equazioni bisogna parolone universali sono invarianti nel tempo nello spazio dipendono dalla natura umana e basta poi quello che caratterizza il mio cuore dal tuo cuore dal cuore di Mario Rossi sono i dati cioè è la forma del tuo cuore non i principi fisici che regolano il suo funzionamento quelli sono gli stessi per me per te per tutti le equazioni che traducono i principi fisici sono le stesse per tutti quella che cambia sono i dati che caratterizzano la forma del tuo cuore del mio cuore tutti noi abbiamo forme diverse per esempio la geometria è un dato un altro dato è il fatto che per esempio io sono una persona di età avanzata e quindi il mio cuore ha delle condizioni fisiche materiali diverse dal cuore di un bambino o di un ragazzo o di un giovane o di un giovane adulto questi sono dati del problema non sono il modello sono i dati alimentano il modello e il modello fornisce la soluzione per quello specifico cuore così è in questo caso io voglio avere un modello se possibile che descriva il fenomeno epidemico covid-19 che sarà diverso dal modello ebola che sarà diverso dal modello SARS-1 che sarà diverso dal modello influenza stagionale dipende dal specifico processo questo è il modello quindi le equazioni dipendono da quello specifico processo poi quelle equazioni il modello e quello specifico processo voglio poterlo esaminare in Italia quindi dati italiani Lombardia dati Lombardia Stati Uniti Inghilterra Baviera Centro Africa eccetera eccetera questa è la specificità quindi i dati sono quelli che permettono di caratterizzare in maniera specifica cosa sta succedendo in uno specifico luogo per esempio quindi i dati di prima quelli di cui vi ho parlato prima per me sono quelli che alimentano il mio modello sono la benzina della mia automobile sono il carburante della mia automobile la mia automobile esiste e descrivi il processo la benzina è il dato se no la mia automobile sta ferma ok e quando tu metti questa benzina il dato nella mia automobile la mia automobile va e dà una soluzione se la voglio usare in montagna andrà in montagna se la voglio usare in pianura andrà in pianura se la voglio usare su una pista da diciamo da competizione e mi darà i risultati le performance eccetera eccetera allora scendo dalla metafora questo è quello che io voglio fare questo è il mio modello questo è il modello universale è un esempio di un modello universale qui non c'è ancora il dato questo modello io vorrei poterlo applicare in Lombardia in Italia nella provincia di Varese nella provincia del Wuhan negli Stati Uniti dappertutto questo dipende dal processo epidemico quindi dal covid e dalla SARS COV ok dallo specifico agente patogeno e cosa fa questo modello beh questo è uno dei tanti quello che abbiamo sviluppato noi al MOX al Politecnico di Milano si chiama APMOX questo modello che cosa fa questo modello divide tutta la popolazione ripeto scala nazionale se vogliamo ma anche scala provinciale questo lo decidiamo noi ok facciamo vinta che parliamo di Italia per capirci no divide tutta la popolazione italiana in sette compartimenti il primo è quello dei suscettibili che sono i suscettibili sono quelli suscettibili di controllare il virus allora se torniamo al Natale 2019 bei tempi eravamo tutti tutti sani dal punto di vista della contagio del virus tutti non contagiati poi ci sono tante teorie anche da questo punto di vista ma per essere sicuri torniamo a Ferragosto dove eravamo tutti al mare del 2019 eravamo tutti suscettibili quindi 60 milioni di italiani suscettibili ok eravamo tutti in questa categoria tutte le altre categorie erano vuote poi da un certo punto in poi arriva il virus e i suscettibili alcuni cominciano ad essere contagiati undetected cioè sintomatici non riconosciuti non riconosciuti sintomatici o non riconosciuti asintomatici cioè se io sono non riconosciuto non ho mai fatto il tampone sono contagiato posso essere asintomatico posso essere sintomatico ok quindi due categorie poi ci sono quelli che vanno in ospedale poi ci sono quelli che vanno che guariscono poi ci sono quelli che vanno nelle terapie intensive e poi ci sono quelli che non ce la fanno che muoiono allora in ogni istante oggi in questo momento tutti gli italiani appartengono a una di queste categorie a una e una sola di queste categorie se mi d'accordo no? perché o o o non ci sono più o sono in terapia intensive o sono in ospedale o sono guariti dal virus o sono affetti dal virus in maniera riconosciuta o non riconosciuta o sono ancora suscettibili cioè non sono ancora venuti diciamo a contatto col virus allora se questa è l'idea queste sono le variabili del mio del mio modello poi devo capire come uno passa da una classe all'altra classe come un suscettibile diventa contagiato riconosciuto o non riconosciuto sintomatico non sintomatico come un contagiato finisce in ospedale o addirittura in terapia intensiva o poi guarisce o poi o poi allora questi meccanismi di scambio io li vorrei fare con delle equazioni cioè vorrei scrivere delle equazioni che mi permettono di capire come queste diverse classi che tecnicamente si chiamano compartimenti dialogano fra di loro se sono capaci di fare questo con equazioni che non vi faccio vedere perché sono un po' complesse ho in mano uno strumento che mi permette di far vedere l'evoluzione dell'epidemia in ogni istante e allora arrivo a questo questo è il modello arrivano le curve famose allora queste curve e questo è molto importante che si capisca questo non vi faccio vedere le simulazioni di questa ondata in corso perché non voglio impressionare nessuno voglio far vedere quello che è successo in passato per la prima ondata vedete qui era marzo inizio di marzo quando tutto ha iniziato e qui è settembre qui vedete quando queste curve diventano sono questi baffetti questi tratti li vedete tratti sulle curve perfetto qui dove finiscono questi tratti adesso vi dirò cosa sono questi tratti è metà giugno è il momento in cui si è fatta questa simulazione ok supponete di essere a questa simulazione questo giorno metà giugno dove abbiamo lanciato il nostro programma e abbiamo fatto la simulazione c'è un passato e c'è un futuro il passato è noto perché è già passato quindi sappiamo che è successo il futuro è da predire non è noto nel passato abbiamo dei dati perché sappiamo che è successo sappiamo quante persone sono morte linea nera sappiamo quante persone erano in terapia intensiva linea verde sappiamo quante persone erano riconosciute contagiate e sappiamo quante persone erano diagnosticate linea gialla allora qui vedete le curve e su ogni curva ci sono dei baffetti sono dei trattini i trattini sono i dati veri quello che è realmente successo la curva è quello che ci ha dato il nostro modello c'è un accordo quasi perfetto tra la curva tra le curve e i dati vuol dire che il modello è stato in grado di dire cosa è successo esattamente quindi quantomeno il modello è stato in grado di dico una parola sbagliata ma la dico di proposito predire il passato cioè di ricostruire il passato quello che è successo nel passato in maniera precisa il problema è capace di predire il futuro questo è quello che si simulava a giugno metà giugno sul futuro questa è la previsione come fare la previsione meteo capisci? allora uno può dire beh ma ci stiamo prendendo in giro qui cosa vuol dire fare le previsioni sul passato in effetti non ha nessun senso fare la previsione sul passato so cosa è successo in passato so quanti sono stati morti eccetera ma il modello lui lavora sia sul passato che sul futuro è una lente che parte da marzo quando è iniziato questo processo e va fino a quando vogliamo noi gennaio 2021 ebraio 2022 quindi per sperare che il nostro modello sia in grado di dirci cosa succederà domani dobbiamo essere almeno sicuri che il modello fosse in grado di capire cosa era successo prima perché se questa concordanza di dati e di curve non ci fosse stata in passato noi non avevamo creduto a questo modello per il futuro quindi la sintetizzo così per prevedere il futuro alleno il modello sul passato alleno il modello su quello che è la storia passata per poter prevedere il futuro e quello che facciamo oggi è usare questo modello per capire cosa verosimilmente succederà in futuro questo ha riferimento con la seconda ondata per esempio quindi è lo stesso modello di prima che si sta applicando alla seconda ondata vediamo la curva rossa dei positivi faccio vedere il tempo qui siamo arrivati a 20 novembre circa quindi questo è il picco il primo picco che abbiamo ottenuto sulla curva dei positivi ma non siamo ancora al picco dalla curva degli ospedalizzati la curva verde nemmeno quella di contagiati in terapia intensiva e tantomeno quella dei decedenti se lascio andare avanti questo modello qui l'ho interrotto apposta se lo lascio andare avanti vado a vedere dove questi picchi verranno realizzati e quanti saranno quali saranno i numeri di tutte queste curve quando si arriva al picco o quando si va oltre il picco questo è fatto su scala nazionale ma dicevo prima lo possiamo fare su scala regionale questa è la Lombardia questo è il Piemonte questo è il Veneto questo è l'Emilia Romagna giusto per fare degli esempi questa è l'idea generale diciamo l'obiettivo è quello di far capire come evolve il procedimento altrimenti ogni giorno possiamo capire se sono meno 60 o più 20 rispetto a ieri ma questo non ha niente a che vedere con la curva io vi ho fatto vedere la curva in realtà dietro a quella curva ci sono tutta una serie di seghettature sembrano le cime della grigna quello è il rumor di fondo ovviamente tutti i giorni abbiamo dei dati discordanti un po' crescono un po' decrescono ma è importante il trend è la curva che mi fa capire qual è il trend io non devo ancorarmi al dato giornaliero che ci disorienta perché è apparentemente contraddittorio un po' va su un po' va giù un po' va su un po' va giù ma l'importante è se sta andando un po' su un po' giù sta andando in una curva che sta decrescendo oppure se è una curva che sta crescendo totalmente diverso il processo certo c'è stato molto chiaro davvero mi è sembrato proprio di capire ovviamente non ti chiedo di impegnarti sul futuro però così in via confidenziale non ci ascolta nessuno quando metto in conto la prossima rassegna quando è che potremmo tornare a riempire il nostro auditorium di gente per ascoltare gli scienziati va un anno fra mesi di più ma guarda ovviamente il nuovo il nuovo invitato a tavola è il vaccino e questo cambia radicalmente lo scenario allora prima di lasciarmi andare a fare previsioni che poi come sempre come dicevo che è grande le previsioni sono difficili soprattutto quando riguardano il futuro però mettiamola così io penso che noi siamo in una fase in cui se non ci fosse il vaccino tutto dipenderebbe tutto rigorosamente tutto dipenderebbe dai nostri comportamenti individuali tutto ok e ormai l'abbiamo capito per esempio noi dei nostri modelli abbiamo capito che se i primi interventi che sono stati fatti se non ricordo male il 25 ottobre i primi interventi con i dpcm quelli che intervenivano significativamente fossero stati fatti dieci giorni prima avrebbero cambiato completamente la storia di queste curve e anche la storia di deceduti avrebbe cambiato drasticamente il meglio naturalmente quindi il tempo è fondamentale cioè la diciamo rapidità con cui si interviene è fondamentale è molto più determinante di quanto non lo sia la severità dell'intervento cioè paradossalmente con i numeri di contagiati che abbiamo adesso sono enormi è un numero enorme la differenza che fai sulle curve del futuro andando a implementare tutte le regioni rosse piuttosto che tutte arancioni piuttosto che tutte gialle ovviamente c'è differenza ovviamente ma non è così determinante come lo sarebbe stato implementare la prima restrizione dieci giorni prima per farti capire quello che realmente conta è il momento in cui tu fai un'operazione di contenimento e la quantità di positivi che hai in quel momento questo è quello che veramente conta e noi abbiamo avuto un periodo fantastico che è stato luglio cui il numero di contagiati era bassissimo quindi e da lì in poi tutto dipende dai nostri comportamenti specifici in assenza di vaccino quindi le tre famose le tre famose raccomandazioni quindi mascherine distanziamento fisico e poi pulizia igiene sono fondamentali ovviamente c'è un altro convitato di pietra che è il tracciamento che è miseramente fallito in questo periodo e questo è fondamentale allora senza tracciamento noi non andiamo da nessuna parte se ci sarà una terza ondata senza tracciamento non andiamo da nessuna parte non cambiamo significativamente la storia di questa epidemia perché non siamo nella condizione di isolare le persone che dall'inizio cioè anche se portiamo molto giù le curve abbiamo pochissimi contagiati quello che è fondamentale è controllare i focolai i nuovi focolai questo è un fracca il tracciamento se farisce il tracciamento poi a questo punto lo sappiamo benissimo oggi è tutto rigorosamente fuori controllo quindi io non so se sono io so sicuramente di essere asintomatico ma io non so se sono contagioso o no e probabilmente non lo sai tu e non lo sa nessuno allora per scoprirlo chiaramente uno deve essere in qualche maniera testato e poi se è testato e se incomincia a sviluppare qualche sintomo deve essere testato subito prima che mi senta libero e impunito a uscire e a contagiare altre persone quindi questa è l'altra componente fondamentale e poi naturalmente c'è il vaccino allora poi c'è la famosa immunità di greggio allora immunità di greggio immunità di comunità come la chiamano il vostro Antovani forse più correttamente questa dipende da una specifica come dire epidemia da ogni specifica epidemia ogni specifico agente patogeno naturalmente ha associato il suo indicatore diciamo indennità di comunità allora se noi fossimo diciamo in una società totalmente diversa e non avessimo mezzi di contrasto avessimo lasciato andare questo agente patogeno liberamente nel mondo si stima che l'immunità di comunità sarebbe stata intorno al 67-70% i modelli ti fanno capire che devi arrivare ad avere grosso modo quella alta percentuale di popolazione immune prima di creare la barriera definitiva che poi butta a zero il contagio e quindi diciamo spegne questa bruttissima storia ora per arrivare lì abbiamo bisogno adesso abbiamo bisogno naturalmente per arrivare lì senza fare tantissime morti ovviamente perché ancora potremmo arrivare lì ma è stata l'idea iniziale se non ricordo male di un premier britannico no? quella di ok allora per arrivare lì con pochissime diciamo riducendo al massimo le perdite abbiamo bisogno del vaccino e il vaccino ovviamente avrà due effetti il primo proteggere individualmente e il secondo proteggere la comunità no? allora la protezione individuale se il vaccino funziona e non dobbiamo avere nessuna ragione per dubitarlo no? sarà immediata diciamo il secondo richiamo dovrebbe essere immediato quindi individualmente una persona è protetta ma la comunità sarà protetta interamente quando appunto arriveremo a quelle percentuali enormi di persone che sono immuni e quindi e quindi ci sarà tempo c'era tempo ci sarà tempo e ci saranno diversi mesi prima di arrivare a quelle percentuali perché perché inevitabilmente questa operazione di immunizzazione attraverso il vaccino richiederà i suoi tempi noi possiamo solo aiutare possiamo solo aiutare con il nostro comportamento individuale con la consapevolezza che lì fuori c'è un ospite che non aspetta altro che ricominciare la sua corsa e non c'è nessuna ragione al mondo per cui questo non debba avvenire purtroppo nelle condizioni attuali che ripeto quelle curve lì che ho fatto vedere le possiamo contrastare al massimo riportandoli in basso il più possibile ma non li riportiamo a zero nel momento in cui non le riporti a zero come la storia ci insegna ci basta un paziente uno per vantaggiare tante persone benissimo è stato veramente istruttivo io ti ho ascoltato con grande interesse e ne esco diverso da un'ora fa diciamo ecco per cui ti ringrazio a nome di tutti gli appassionati di scienza che ci seguono da anni e sono veramente interessati di queste cose ti aspettiamo a Brugheri io so per te non sarà un lungo viaggio per fortuna che sei abbastanza comunque io sono fiducioso per l'autunno prossimo ah ecco questa mi sembra già una buona sicuramente sì molto fiducioso molto fiducioso allora cominciò a segnare le date di novembre dai facciamo un po' di ottimismo infatti ecco sarà bellissimo incontrarti vederti ascoltarti di nuovo grazie ancora grazie a te a presto e buon lavoro per tutto e auguri per tutti grazie a te